Agente traditore rilevato. Torretta assaltatrice, traditore rilevata. Torretta assaltatrice nemica rilevata. Lucciola accecante, traditore rilevata. Lucciola accecante, traditore rilevata. Grave trauma rilevata. Agente neutralizzato. Ludovic. Valvata. Fondantrice. Sandri rilevata. Du hotspots. lanciatore chimico attivato sto rendendo il muovo a a a a a a a a Grazie a tutti. Agente sottotito. Tocca! Drone restaurato. Drone restaurato. Un minico rilevato. Agente traditore. Eliminato.